Lascia i tre e cinque minuti di intero e poi potete... Noi, alla fine, ed è importante che rimaniamo tutti, ci sarà un messaggio che vogliamo portare. A mano a mano! Le carrozzine! Non è tutto il suo bravo, qui? Grazie! Il filo è il tuo cuore, qui va a te. Ma non è che finisci la tua cosa! Nooo! E' un'altra cosa! E' un'altra cosa! fate passare